Amici di Youtube bentornati alla terza parte di questo mio gameplay di Resident Evil 2 Come di consueto volevo ringraziare tutti coloro che hanno seguito le prime due parti Quindi eravamo rimasti che avevamo preso la chiave col simbolo dei quadri e il detonatore più la bomba Possiamo tranquillamente uscire dalla camera oscura In modo tale da andare a utilizzare il gioiello rosso E cominciare ad andare ad aprire le altre porte con il simbolo dei quadri Come vedete la colonna sonora si... come sentite più che altro La colonna sonora si assesta sempre su livelli encomiabili ancora oggi Almeno per il mio parere E' ancora oggi capace di mettere molta ansia Allora una volta qui Questo è il percorso che ovviamente io vi suggerisco Poi siete liberi di scegliere altre strade Una volta qui saliamo tramite la scaletta che funge da tramite... Dal piano terra al primo piano E andiamo verso la sala d'attesa Dove potremmo utilizzare due oggetti Non abbiamo alcun oggetto da posare nelle baule Quindi richiamoci dapprima nella porta Che ci permetterà di utilizzare il gioiello rosso Se vi ricordate ne avevamo utilizzato soltanto uno Nella statua a forma di busto di una donna Dove nella descrizione ci appunto diceva che Era possibile inserire qualcosa grande quanto un pugno Per cui armiamoci di gioiello E gustiamoci la piccola animazione Quindi il torace della statua si apre E collezioneremo metà pietra blu Da qui possiamo anche uscire E senza tornare indietro Utilizziamo il detonatore per rendere accessibile questa stanza Ci allontaniamo Fatto ciò Riusciremo ad accedere a questa stanza Qui c'è una donna Un cadavere Premendo X Ci gustiamo questo filmato Oh I'm terribly sorry I thought you were another one of those zombies Are you Chief Irons? Yes, yes That's me And just who are you? No, don't bother telling me It makes no difference You'll end up just like all the others That's the mayor's daughter I was told to look after her But I failed miserably But I failed miserably Just look at her By putting a bullet through her brain Or by decapitating her completely And to think that taxidermy used to be my hobby But no longer Please I'd really like to be alone now Ok, quindi la figlia del sindaco Michael Warren È distesa Di fronte al nostro Capo del dipartimento Brian Irons Che come Se vi ricordate In precedenti files Avevamo letto Che comunque sia Era attratto da donne più giovane di lei Ed era stato accusato di Violenza sessuale Quindi Diciamo che un po' I conti tornano E ci suggerisce appunto Come uccidere I zombie C'è qualcun altro in questa stanza Come sentite da I molteplici passi Vediamo chi è Qui non siete nulla Quindi accendiamo la luce Tramite questo interruttore rosso C'è un file Diario B del segretario 8 giugno Mentre stavo mettendo in ordine la sua stanza Il capo è entrato con un'espressione furiosa in volto Lavoro qui da appena due mesi Ed è la seconda volta che lo vedo così arrabbiato L'ultima volta era stata Quando avevo urtato la statua Solo che questa volta sembrava addirittura più agitato Per un momento ho pensato che stesse per farmi del male 15 giugno Ho finalmente scoperto che cos'è che il capo sta nascondendo Se sapesse che l'ho scoperto La mia vita sarebbe in serio pericolo Ormai è troppo tardi Devo prendere i giorni come vengono Altri sospetti incombono sul capo Ecco la bimba Lei era probabilmente vero Ma è pericolo qui anche E tu dovresti venire con me Ma c'è qualcosa fuori Non so cosa è Ma lo vedo È molto più grande Che nessuno di questi zombie E è venuto dopo me Ok quindi abbiamo fatto la conoscenza Di Sherry Recuperiamo qui lo spray medico E come abbiamo sentito Come abbiamo potuto sentire C'è qualcosa o qualcuno Non sappiamo ancora Che insegue la nostra bimba Torniamo nuovamente nella stanza del capo Ok Entrati qui Vediamo che il capo è andato via Quindi non c'è più E neanche la Figlia del sindaco Warren Qualcosa luccica Ed è la chiave Qui Sotto il quadro c'è un pulsante Premiamolo Come vedete ci sono tre alloggiamenti Di forma quadrata Il sacrificio muore con l'artiglio del giaguare Il suo sangue forma un serpente Che avvelena la terra Un'aquila luccica immersa nel sangue Si aprirà la via del giudizio universale Come vedete qui C'è un piccolo C'è una specie di porta Poco Notabile diciamo La potremmo aprire Utilizzando questi tre oggetti Ovviamente Le pietre Noi al momento ne abbiamo metà A poco a poco Riusciremo a recuperare le altre Raccogliamo il diario del capo 23 settembre Non c'è più niente da fare Quegli imbecilli dell'ambrella Ci sono riusciti Nonostante tutte le loro premesse Hanno rovinato la mia città Presto le strade saranno infestate da zombie Sto cominciando a pensare solo Scusate Sto cominciando a pensare Che anch'io potrei essere stato contagiato Se dovesse essere così Ucciderò ogni singolo essere vivente 24 settembre Sono stato bravo a seminare confusione Tra la polizia come deciso Ho fatto in modo che nessuno Potesse venire in aiuto dall'esterno A causa del ritardo dell'intervento della polizia Nessuno riuscirà a uscire vivo dalla città Ho anche provveduto di persona Affinché tutte le vie di uscita Dell'interno del distretto Fossero interrotte Ci sono ancora molti sopravvissuti Che stanno cercando di fuggire Attraverso i livelli inferiori Ma farò in modo che non ci riesca nessuno 26 settembre Ho cambiato idea A proposito dei sopravvissuti Rimasti all'interno del distretto Ho deciso di eliminarli di persona Ho colpito Edda alle spalle Trapassandogli il cuore Meno di un'ora fa L'ho visto contorcessi dal dolore Per terra in un lago di sangue L'espressione del suo volto Era assolutamente splendida Morto con gli occhi spalancati Vissi su di me È stato bellissimo Chissà se la figlia del sindaco È ancora viva L'ho lasciata fuggire Così mi divertirò A darle la caccia più tardi Sono molto felice Del mio nuovo trofeo Sì Immobilizzata per sempre Nella posizione che sceglierò io Piccolo Grande Maniaco Che non è altro Il nostro capo Quindi il nostro Prossimo compito è Andare a scovare Le porte Contrassegnate Dal simbolo Quadri E dal simbolo Dei cuori Invece di Scerverlarvi Vediamo Non abbiamo Credo Sì Abbiamo Due oggetti da posare Che al momento Ci sono inutili Lo spray La metà Della pietra blu Dicevo Invece di Scerverlarvi Ad andare a cercare Le porte Vi suggerisco Vivamente Di scendere La scala Che è a metà Del secondo piano Del primo piano Di la scala Di emergenza Che ci permette Di arrivare appunto Al piano terra Una volta scesi qui Se vi ricordate All'inizio Del gioco Quindi proprio Nella prima parte Tramite la scheda Dataci da Marvin Branagh Avevamo potuto Aprire le porte Della hall Una porta È stata Ancora ignorata E quindi Possiamo Fare il nostro Ingresso Qui dentro Occhio che qui Vi sono Una serie di zombie Che vi consiglio Di sparare a Debita distanza Anche tramite La pistola Perderete un po' di tempo Però Un po' di pazienza Non fateli avvicinare Più Del necessario Perché Quando sono Insieme Ecco Quando sono insieme Possono risultare letali Caricate la pistola Quando è possibile Evitando di restare Senza proiettili Perché Quest'ora da ritorni Potrebbe essere Pericolosa Dovrebbero essercene Ancora Se non sbaglio Questo è rimasto vivo Ok Ignoriamo la doppia porta Blu Per il momento Raccogliamo L'erbetta Ok E procediamo Lungo Questo piccolo corridoio Per entrare in questa porta Come notate La regia visiva Di questo gioco È Magnificamente Realizzata Diverse Inquadrature Sono state utilizzate Per rendere appunto Claustrofobico L'effetto Delle telecamere Se vedete Alla nostra sinistra Se vedete Alla nostra sinistra Avremo modo Di leggere Una, due, tre, quattro Lettre Red È un chiaro riferimento Al film Shining Con Jack Nicholson Appunto Dove c'era scritto Red Room Che potrebbe significare Sia stanza rossa Che Murder Letto al contrario Quindi assassino Non so quanti di voi Abbiamo visto Shining Spero tanti Perché è un film Che merita Questo è un altro Riferimento cinematografico Quindi abbiamo aperto L'altra porta Dei quadri Scusate Per recuperare La pietra dell'aquila Occhio che qui Girandoci di 180 gradi Andando leggermente avanti Boom Abbiamo un compagnolo Ovviamente il leak Ignoriamolo Ignoriamolo E come vedete ho anche ignorato Il cavo Che vi era Sopra la scrivania Per motivi che Al momento non vi dico Perché Sono inutili In questo istante Quindi una volta recuperato Questa pietra Possiamo benissimo Marcare la doppia porta blu Per andare In un'altra stanza Anch'essa piena di zombie Ok Qui ne troveremo Uno a sinistra Uno a destra E uno al centro Mi conviene fare Piazza pulita Questa non è morta Ah giù Ok Ops Ecco qua Mannaggia la pupazza Allora Audace il tipo Ok E' morto Come vedete Alla nostra sinistra Ce n'è un altro Che è a terra Fa il finto morto Ma noi possiamo Benissimo sparargli Fino a farlo Soprire Io userei un'erbetta E combinerei I proiettili Della pistola Perché lagga così Maledetto Allora Spariamo anche a questo Ok Sperando che sia morto Sì è morto Qui dentro C'è Una cassaforte Se vi ricordate Avevamo preso Un file In cui ci dava Una combinazione Di quattro numeri Il numero è Due Due Tre Sei E avremo accesso A delle Utilissime Granate Acide E alla mappa Della stazione Di polizia Che al momento Sinceramente serve a poco Perché Fortunatamente ricordo I posti Però Per chi magari Non vorrà Seguire Ovviamente Questo gameplay Potrebbe Essere Utilissimo Qui ci sono Due erbe Mediche Da poter Utilizzare A vostra Discrezione Ok Allora Alla destra C'è un cadavere Da cui potete Recuperare Dei proiettili All'interno Di questa porta Vi sono Una serie Di erbe Che possono Risultare utili Se non avete Fatto Buona scorta Noi per il momento Apriamo questa qui Tramite la chiave Cuori Per giungere A Una nuova stanza Qui ci sono Altre due erbe Mediche Io ho dimenticato Di prendere Il lanciacranate Vediamo se Ho fatto bene O ho fatto male Qui forse Se ci sono delle munizioni No si prendono Nello scenario Di lion Questa porta E' chiusa Al momento Quindi scendiamo Nei sotterranei E la musica Non è per nulla Rassicurante Come potete sentire Dal rumorino Vi sono Dei cani Io tenterei Di ucciderli Da questa posizione Per evitare Le brutte sorprese Mi sono messo A proiettili Carichiamo che male Non fa Ok Un è morto Ops Ecco Mi hanno fregato Benissimo Oh maledetto Allora ok Tentiamo ecco Di essere in una posizione Favorevole A Alla mira Cercando di non farci Rinchiudere Qualche spazio Per La cosa è molto Molto probabile Perché L'intelligenza Di questi cani Non è seconda A quella Nostra Rechiamoci in questa Doppia porta Metallica E Tiungeremo Probabilmente fuori Sentirete dei rumori Di cani Ma in realtà Sono sopra Se Sarete svelti Non li farete scendere Quindi Entriamo in questa Botola Per scendere ancora Più giù Come vedrete qui Vi è Questo Buchino Di grata E ci La didascalia Ci dice che è troppo Grande Troppo piccola Per far passare Una dutta Entriamo qui dentro Dove potremo Recuperare Alcuni oggetti Tramite il baule Andiamo Anche il nastro Ok Allora Posiamo la La pietra Le granate Le lascerei Il nastro Lo accumuliamo Agli altri E prendiamo Anche il Lancia granate Con le altre Penso che non ci sia Altro Sì Per il momento Lascerei Il mondo Come sta E usciamo di nuovo fuori Per gustarci Il prossimo filmato Sherry I've been looking Everywhere for you I was so worried We've got to go now Honey Ok If we stay here That monster Will find us Let's go No I won't What's the matter Don't you trust me It's not that Claire It's because of my daddy He's over there I heard him call my name Daddy must have been attacked by the monsters I have to help him Wait Sherry Don't go alone Sherry Sherry Ok Prenderemo adesso I panni di Sherry Avete potuto Notare Dopo il dialogo Che il padre di Sherry La sta cercando Al momento Non sappiamo Ovviamente Chi sia Questo individuo Allora Cerchiamo di evitare i cani Per entrare In questa stanza Recuperiamo la Mappa della discarica fognaria Che sinceramente È poco utile Al momento Allora Qui c'è un dispositivo Vi consiglio di scendere Vivamente giù Per risolvere questo Intuitivo enigma Avremo Tre casse Queste tre casse Andranno spinte In modo tale Da formare Un piccolo ponte Che ci permetterà Di Sorpassare Da una parte All'altra Quindi spingiamo Spingiamo meglio Questa seconda In modo tale Da averle Vicine Risaliamo su E attiviamo Il dispositivo In modo Da Fare entrare L'acqua Ok Una volta fatto ciò Passiamo dall'altra parte Del ponte In modo da recuperare L'ultima Delle chiavi Contrassegnate Dal simbolo Dei simboli del poker Io vi consiglierei Di tornare Ma se siete audaci Potrete Fare una piccola Deviazione Per entrare In questa stanza Per recuperare Degli oggetti Utili Una volta qui dentro Potrete recuperare Queste granate Esplosive Se non erro Si Fatto ciò Possiamo anche Tornare Sui nostri passi Per ritornare Dalla nostra Claire I cani Possono essere Abbastanza ostici Non so Per quale Grazie di Dio Non mi hanno Ancora Morso Ok Torniamo Nuovamente All'ascensore In modo da tornare Da Claire Claire Are you there? Sherry Are you okay? Did you find your dad? Yes I'm okay But I couldn't find him But I did find something else for you Here Here Here's another Thanks, sweetie Now, why don't you come over here? I want you to stay with me Claire I can't reach the ventilation hole anymore But don't worry I'll find another way I can take care of myself Wait, Sherry Come back Sherry Sherry Ok Sherry ci ha Dovuto abbandonare Perché non Riesce a salire più Nella grata Essendo molto alta Recuperiamo gli oggetti Presi dalla bimba Io Potrei anche Combinare Per guadagnare Un po' di spazio Ok Entriamo qui dentro Direi che per il momento Possiamo sospendere Questa Parte di gameplay Non poserei Null'altro In realtà Poserei Almeno una granata Per avere almeno due spazi Ok Recuperiamo anche il nastro Per poter salvare la partita Nel frattempo che io faccio ciò Come di consueto Ringrazio tutti coloro Che hanno seguito questa parte Ovviamente Se avete sempre Critiche Costruttive Pareri In merito al gameplay Sono libero di Accettarli Sono inesperto Come volete Ma lo faccio Semplicemente per divertirmi E per far conoscere Ai più Questo magnifico gioco Di molti anni fa Io vi ringrazio nuovamente E vi Invito a Visitare nuovamente Il mio canale Per La quarta parte Che arriverà Spero Al più presto possibile Ciao a tutti E ci vediamo Alla quarta parte